Milano in arrivo 209 alloggi popolari. Un piccolo quartiere sta per sorgere a Milano tra via Appennini e via Consolini. È in programma la costruzione di 196 nuovi alloggi di edilizia sociale che staranno pronti nella primavera del 2010. Accoglieranno 587 abitanti. Infatti è stato pubblicato lunedì il bando di gara che il prossimo autunno consegnerà i lavori alla ditta vincitrice. Il costo dell'opera, interamente finanziata dal comune, è di circa 30 milioni di euro. Saranno realizzati 8 corpi edilizi, circa 200 alloggi, tele riscaldati, spazi verdi, un asilo nido, un centro di ascolto e numerosi posti auto.